Attenzione, possiamo agabondare libera, correndo lontana dentro le cose, fino a vedere che l'anima non è sempre diamante, ma a mille volte velo di sede. Immagina un velo di sede trasparente, qualunque cosa potrebbe sprecciarla, anche uno sguardo. E pensa alla mano che lo prende, una mano di tono, si muove lentamente e lo stringe tra le dita, ma a stringere è già troppo, lo solleva come se non fosse una mano ma un colpo di vento e lo chiude tra le dita. Come se non fosse una dita ma, come se non fosse una dita ma, così, questa stanza e quella mano. Ehm, mia... Grazie 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 Grazie